Approvati a maggioranza i bilanci di esercizio 2019 di previsione 2021 dell'Agenzia Toscana Promozione Turistica che svolge attività di promozione turistica tramite l'organizzazione diretta di iniziative e la partecipazione a progetti di promozione anche di altri soggetti pubblici sia a livello nazionale che internazionale. Le linee di indirizzo della Regione sono quelle di dare avvio al testo unico del turismo che organizza la Toscana in 28 ambiti territoriali con Toscani Together, promuovere il turismo sostenibile e sviluppare il turismo online con un piano flessibile per diversi scenari possibili e dedicato ai flussi turistici domestici e di medio raggio. Per quanto riguarda i numeri del bilancio di previsione 2021 i contributi della Regione per l'attuazione del piano operativo dell'Agenzia per l'annualità ammontano a 6 milioni e 334 mila euro. Noi abbiamo approvato sia il bilancio consuntivo del 2019 sia il bilancio di previsione del 2021. Toscana Promozione rappresenta sicuramente una leva importante del sistema economico e del PIL di questa Regione e rappresenta a me anche uno dei settori che ha sofferto e che sta soffrendo di più e che avrà più lentezza nel ripartire. Quindi a fianco della promozione delle previsioni e dell'indirizzo che questo Consiglio dovrà dare nel senso della più ampia promozione turistica intesa abbiamo anche affiancato quelle misure anche negli scorsi mesi che ricorderete del sostegno all'Agenzia del Turismo, agli antiferistici, a tutto quello che rappresenta la promozione dei patrimoni della Regione Toscana e dei beni della Regione Toscana. L'idea e la riflessione più grande che è venuta fuori in Commissione anche con il Direttore Palumbo e con l'Assessore Marras è quella di avere una grande flessibilità nella gestione del turismo nei prossimi mesi. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo 28 ambiti, abbiamo un pacchetto di 52 prodotti tipici e un'offerta turistica che sta cambiando anche nella domanda e nella richiesta, quindi con le permanenze più lunghe da parte di chi viene a soggiornare in Toscana, il relax che è uno dei temi che vengono più cercati, il lusso, quindi dobbiamo avere una grande attenzione a rendere flessibile quella che sarà la domanda e l'offerta da parte di Toscana Promozione nei prossimi mesi. Il bilancio è un bilancio di circa 15 milioni che ha una lieve flessione rispetto allo scorso anno per ovvi motivi, ma quello che cerchiamo di fare è muoversi in quei sette ambiti che abbiamo individuato, che riguardano il turismo slow, che riguardano il turismo digitale, il turismo online, l'incoming rispetto all'outcoming, quindi preparare i pacchetti valorizzando il nostro bene e il nostro patrimonio, condividendolo sempre con le associazioni di categoria. È quello che abbiamo fatto ascoltando 1.500 operatori e che cercheremo di fare, cercando di dare e di preparare la strada per aiutare il turismo in un momento così difficile. Intanto proprio dobbiamo ripartire dal concetto che dobbiamo salvare il nostro turismo salvando anzitutto le attività che fanno il turismo. Mi vengono in mente gli alberghi, ma anche tutti i servizi connessi al turismo come ristoratori, bar. Noi abbiamo presentato delle mozioni, abbiamo presentato degli atti che sono finiti in discussione oggi, ma che in accordo con la maggioranza abbiamo deciso di portare in commissione per ritrattarli in aula la prossima volta proprio per avere la possibilità di dare un contributo e cercare di portare sollievo a tutte quelle famiglie e quelle attività che sono in forte difficoltà. Questo ovviamente è il punto di partenza. È ovvio che in Toscana il turismo può essere sviluppato, deve essere sviluppato anche tramite le infrastrutture, deve essere sviluppato tramite la promozione, perché abbiamo una regione che è meravigliosa, una regione che tutti ci invidiano dal punto di vista culturale, di conformazione del territorio, dell'offerta turistica e quindi deve essere un volano di ripartenza post-Covid. Abbiamo una fortuna e la dobbiamo sfruttare. Certo è impensabile farlo se non riusciamo prima a salvare tutte le attività che al turismo sono legate. Secondo noi non funziona o perlomeno non è sfruttata come dovrebbe. Toscana la promozione turistica dovrebbe avere la possibilità di proporre e di realizzare progetti concreti per aiutare il turismo in Toscana. Spesso e volentieri ho sentito parlare di progetti che si finalizzano poi in portali che nessuno frequenta, app che nessuno scarica, agevolazioni virtuali al turismo che nessuno sfrutta. Oggi c'è bisogno di piani concreti. Il turismo, qui siamo a Firenze, è la città forse principale da questo punto di vista, è una città che fa conti con le vetrine e con le saracinesche chiuse e abbassate. Non c'è bisogno di app e di portali, c'è bisogno di interventi concreti. Ci sono alcune delle attività di Toscana promozione turistica che effettivamente sono state molto utili per il rilancio del brand Toscana all'estero. Mentre altre sono stati quantomeno discutibili anche come tipo di attività, io ricordo una delle più vecchie, appena ci insediamo nel 2015, il Toscana ovunque bella, oppure altre iniziative come l'iniziativa all'Expo Milano, che praticamente ci fu un investimento su dei padiglioni che in pratica andarono deserti. Naturalmente adesso cambia completamente lo scenario, è difficile pensare adesso a un rilancio nel 2021 se non in chiave di turismo interno, ma per il turismo internazionale dobbiamo cominciare a ragionare al 2022. Io credo che Toscana promozione turistica dovrebbe impostare molto l'attività in questa direzione utilizzando soprattutto tutti i canali dell'online, del web e utilizzarli al massimo, delle loro funzionalità. Questo credo che sia il primo e principale impegno che si dovrebbe prendere. Il Consiglio regionale della Toscana attraverso una risoluzione illustrata dal Presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegui del PD esprime pieno sostegno alle attività di Ispro per diagnosi, cure e riabilitazione in campo oncologico e impegna la Giunta regionale a proseguire a rafforzare, anche economicamente, il modello organizzativo toscano per prevenzione, cure e ricerca a partire dalle attività di Ispro e della rete oncologica regionale di ricerca per garantire prossimità di accesso ai malati, omogenità e qualità dell'offerta, un'organizzazione del lavoro medico su approccio multidisciplinare tramite percorsi diagnostico-terapeutici unificati. Noi sappiamo che oggi in Italia 3,6 milioni di cittadini sono persone che hanno superato una patologia oncologica, il 37% in più di dieci anni fa. Questo vuol dire che la ricerca, l'innovazione nelle cure, la formazione del personale medico è essenziale per dare una risposta ai cittadini e noi sappiamo che ci sono ormai cure personalizzate, tipo la cura cellulare e CAR-T, che sono delle cure che permettono di risolvere alcune patologie oncologiche che prima non si potevano risolvere. Quindi insomma abbiamo una grande sfida tecnologica davanti, una grande sfida organizzativa, abbiamo una patologia oncologica che sta diventando cronica e quindi abbiamo bisogno di servizi sul territorio. Ecco, questo ci permette di dire ora che l'organizzazione a rete che la Toscana ha scelto alcuni anni fa è il modello vincente che permette di avere su tutto il territorio regionale il massimo delle cure e un'omogenità delle cure su tutto il territorio regionale. Noi diciamo che l'ISPRO può essere in futuro non solo il coordinatore della rete oncologica, ma sempre più un centro di riferimento non solo regionale, ma anche un centro di ricerca e cura di carattere nazionale. E quindi investimenti, conferma dei finanziamenti su ISPRO, su tutta la rete oncologica e poi screening, campagna di comunicazione ai cittadini, dobbiamo continuare a fare gli screening. Anche nel periodo Covid i cittadini non devono aver paura, si muore, anche e soprattutto, anzi i dati sono più alti purtroppo, di alte patologie come le patologie oncologiche. Quindi invitiamo e chiediamo alla Giunta che rilanci una campagna di comunicazione per invitare i cittadini a fare prevenzione oncologica. Sostenere ISPRO è determinante perché purtroppo in questo Paese una persona su quattro si trova a conoscere su malgrado questa patologia che è tremenda, ed è il cancro. Quando una persona conosce il cancro si trova ad affrontare una battaglia che non è soltanto la sua battaglia, ma è la battaglia di tutta la famiglia, di tutte le persone che gli vogliono bene. Io purtroppo mi sono trovato a combatterlo per ben due volte, ma ho anche sostenuto mia madre, ho anche sostenuto mia moglie. Noi siamo una famiglia che è stata molto toccata da questa malattia. Questa è una malattia che nel momento in cui la apprendi, beh, ti senti in parte morire. E allora cerchi, come dire, tutto il conforto possibile, fare l'errore più grande possibile, che è quello di affidarti alle ricerche, andare su internet a vedere e quindi avere notizie che non sono quelle corrette, non sono quelle giuste, sono assolutamente fuorvianti. Ispro aiuta la comunità toscana a fare prevenzione. Fare prevenzione vuol dire intanto dare la possibilità a chiunque di noi di adottare sistemi di vita migliori o in ogni caso ad intervenire immediatamente all'insorgere del problema. E questo permette di avere risultati nettamente superiori. Chi non la vive questa situazione non può sapere cosa vuol dire. Io nel mio caso ho fatto tre anni di chemioterapia e cure monoclonali. Sono cure che mi hanno salvato la vita, ma che mi hanno fatto fare un cammino veramente lungo insieme ad un gruppo di persone che via via ho visto diminuire. e te ogni giorno vedi una sedia che si vuota accanto all'altra e non sai quando anche la tua si libererà. Quindi è determinante, veramente determinante poter sostenere questa istituzione sanitaria che è straordinaria per risultati che dà e soprattutto per le vite che riesce a salvare. Molte persone quando gli arrivano gli avvisi a casa vai a fare l'esame del test delle feci, vai a fare il pap test, spesso non vanno commettendo uno dei più gravi errori perché non soltanto loro scivoleranno in questo delirio, ma trasceneranno l'intera famiglia. Quindi è importante rendere ognuno di noi consapevoli quanto sia importante questa istituzione, ma è ancora più importante sostenerla affinché sia quanto più capillare possibile. La presidente uscente della Commissione regionale per le pari opportunità, Rosanna Pugnalini, giunta a scadenza di mandato già da qualche tempo, ha illustrato in aula, prima dell'inizio della seduta ordinaria, una relazione sui cinque anni di attività. Nel suo intervento di fine mandato, Pugnalini, ha ricordato le tante iniziative svolte. 85 sedute di commissione, 88 dell'ufficio di presidenza, circa 200 iniziative pubbliche e tanti patrocini concessi per sostenere la crescita culturale e per sviluppare pari opportunità in tutti i settori. Purtroppo la situazione, ce lo dicono i dati, la situazione è serissima. Tre femminicidi in poco più di 24 ore sono un dato che farci dire che non possiamo abbassare la guardia. Io l'ho detto chiaramente in questi giorni, ho partecipato a trasmissioni, l'ho detto sul mio profilo, che è vero che viviamo nel momento in piena pandemia e quindi abbiamo un'emergenza sanitaria, abbiamo un'emergenza economica e in questi giorni si sta formando forse un nuovo governo, ma questo tema del femminicidio non può passare in secondo piano. Noi abbiamo una piaga sociale nazionale che ha bisogno di grande, grandissima attenzione e di fronte ai dati che purtroppo abbiamo mese dopo mese, dobbiamo non solo mantenere altra la guardia, ma le istituzioni devono mettere in campo tutto quello che possono, soprattutto per una svolta culturale in questo Paese. Io vorrei ricordare che nel 2021 saranno 40 anni dall'abolizione del cosiddetto delitto d'onore. Quindi io vorrei che le istituzioni celebrassero questa ricorrenza perché evidentemente nella testa di tanti, troppi uomini, ovviamente non tutti e ci mancherebbe, ma in tanti, troppi uomini ancora si pensa che la donna possa essere un oggetto da possedere, quindi una proprietà. E dobbiamo lavorare culturalmente per far sì che questa idea venga completamente superata. Donne e uomini non sono oggetti e anche nelle relazioni affettive, quindi noi dobbiamo fare anche un lavoro verso le nostre bambini, i nostri bambini, le nostre ragazze, i nostri ragazzi. Io come Presidente della Commissione ho provato a fare quel che potevo e così le mie colleghe in questi anni per far comprendere che l'affettività è una cosa bella, è una cosa sana, ma la persona che abbiamo davanti, uomo o donna che sia, non è un oggetto e quindi c'è affetto, c'è amore, ma non si può pensare di far sottostare l'altra persona alla nostra volontà. Io dico sempre che si possono fare le migliori leggi al mondo per le pari opportunità, ma se non sono supportate da una base culturale che deve venire già da ragazzi e sono destinate tutte a cadere nel vuoto. Le pari opportunità significa oggi, anzi significa soprattutto rimuovere tutti gli ostacoli che non permettono alle persone di esprimersi nella loro totalità all'interno della società e si parla non soltanto di donne, ma si parla anche di discriminazioni che avvengono per la religione, per l'orientamento sessuale, per l'età, per molte altre cose. La nostra società è piena di discriminazioni e quella delle donne è quella che più emerge. Allora c'è soltanto un modo per riuscire ad affrancarci, significa fare un lavoro culturale innanzitutto che passa anche dalle leggi, ma passa soprattutto dal finanziamento delle iniziative che vanno incontro alle pari opportunità. Cercare di far uscire le donne dalla condizione di dover restare in famiglia quando nella famiglia hanno una persona violenta e questo accade per ragioni economiche, dare il loro lavoro, dare il loro indipendenza e far sì che sfondino quel tetto di cristallo. Vi do un dato per tutti per farvi capire come anche in Regione Toscana di pari opportunità si parla, ma siamo ancora indietro. Nel secondo semestre del 2020 sono state fatte 27 nomine, solo tre persone su 27 erano donne, il 27,27%. Questo è un dato che deve far capire come in Toscana non saremo all'anno zero, ma non siamo certamente ai livelli che può raggiungere una Svezia ad esempio. Noi dobbiamo essere vicino a tutte le fasce deboli, che possono essere le donne davanti alla fisicità di un uomo che per conformazione naturale è più forte, ma anche tutte quelle persone che vivono nella debolezza della loro persona. Questo diventa fondamentale e credo che ci sia ancora tanto, tanto da costruire. Vediamo che purtroppo i problemi non sono ancora risolti, ma è il nostro dovere provarci e cercare di entrare nel merito, cercare di capire se ci sono soluzioni, cercare anche di spronare le donne alla denuncia e di mettere in pratica anche proprio delle soluzioni per aiutarle in un processo che non è solo fisico, ma spesso è anche psicologico. Sono state approvate a maggioranza dal Consiglio regionale della Toscana alcune modifiche alle leggi regionali sull'edificazione in zona sismica e sulla gestione dei rifiuti. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale 2 del 2021, che ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge regionale 9 2019, sono occorse modifiche alle norme sull'edificazione in zona sismica. Quella principale riguarda l'accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone a bassa sismicità. Un'altra modifica riguarda il permesso di realizzazione degli interventi, che la legge qualifica come rilevanti e si applicano alle varianti e non più solo a quelle che comportano mutamenti sostanziali alle strutture portanti. Durante l'esame in Commissione Territorio e Ambiente, come ha spiegato la Presidente Lucia De Robertis del PD, è stato modificato anche l'articolo 44 bis della legge regionale 22 del 2015, che prevedeva la possibilità per le province di chiedere il supporto degli uffici regionali sulle procedure semplificate per i rifiuti solo fino a giugno 2021, termine che è stato prorogato al 31 dicembre 2021. Sì, abbiamo oggi approvato una legge che di fatto, recependo delle osservazioni che c'erano state fatte dalla Corte Costituzionale, dà la possibilità ai comuni a questo punto di adeguare tutte le richieste di autorizzazione che erano state fatte dai cittadini, che erano rimaste bloccate a causa apposta della inapplicabilità della legge 65. Questo è molto importante perché sono molti comuni in Toscana che sono in zona sismica, sono molti gli interventi che i privati, i cittadini, avevano richiesto per l'adeguamento, anche approfittando dei bonus che ci sono nel 110, insomma quelli legati all'energia, piuttosto che l'adeguamento degli edifici, quindi abbiamo velocemente la sentenza di metà gennaio, ci siamo preoccupati di adeguare quanto prima la nostra legge in modo che i comuni possano a questo punto rilasciare i permessi di autorizzazione a modificare, a costruire.